cosa pensa anche da non italiano che ha vinto il centrodestra in italia può essere pericoloso perché non si sa ma preoccupante lei da dove viene sono più una persona di centro ok i poli estremi ok lei da dove viene ticino dalla svizzera ok disfatta di questo risultato elettorale no no perché perché ok è andato a votare no quella no però che siete contenti pensate che cambierà qualcosa non cambierà niente già se non cambia niente siamo contenti ecco mi astengo fino a che non vedo i risultati definitivi è andato a votare eh certamente sì ok io mi aspetto che li facciano governare perché ma ne dubito fortemente perché comunque in italia non si fanno governare i governi di centrodestra o subentra l'opposizione comunque a prescindere o subentra l'europa per cui dubito che proseguiremo con un governo stabile è andato a votare sì sì quello sì è contento del risultato no come grazie è un miangolo che cambi qualcosa però sicuramente è contento quindi di come è andata contento perché c'è la possibilità di provare a cambiare sì sì abbiamo votato e siete contenti del risultato no diciamo fra sei mesi vediamo cominciamo a dire che speriamo che c'è una pensione ancora ha vinto il centrodestra è andato a votare eh quindi secondo lei uguale eh ebbè non cambia niente soddisfatti? soddisfatti del risultato del risultato e pensate che cambierà qualcosa adesso? beh lo vogliamo sperare mettiamo la prova ecco trava mettiamo la prova non diamo niente per scontato è un grosso impegno però momento storico insomma è un po' difficile anche non ci dispiaceva neanche Draghi come governante anzi assolutamente però vabbè in ogni caso bisognava andare a votare il voto è l'espressione più democratica per cui magari se avessimo aspettato la fine diciamo del mandato di Draghi avremmo preferito sicuramente le cose sono andate così vedremo vedremo sì no perché la mia parte politica è in crisi ma di identità molta identità però non mi spiego neanche come un partito che nel 2013 Italia era al 2% sia arrivato al 25% questo vuol dire che gli italiani votano non per l'ideologia ma per una questione di pancia credono alle promesse che visti la situazione economica attuale non possono essere assolutamente mantenute no per niente pensate che cambierà qualcosa? forse qualcosa ma sicuramente in peggio esatto non in bene purtroppo ok e siete contenti di come è andata? no pensate che cambierà qualcosa ora? sì quindi che cosa vi fa più paura di questo governo nuovo che nascerà? è meglio chiedere cosa non mi fa tanto però è un po' tutta questa convinzione che ha tutto l'anno rispetto alle sue idee che per quanto mi ribadano nel tempo quindi pensate un passo indietro sui diritti? sì anche più è questo che vi fa più paura che tenete di più e per quanto riguarda la situazione economica come pensate che se la caviaranno? ah guardo quello non saprei più che altro c'è anche nell'informazione mi sono concentrata di più sulla questione di rinforo perché è quella che mi fa un po' più è contento? no 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 per niente? per quale motivo? perché se chi ha vinto fa quello che ha detto in campagna elettorale sono preoccupatissimo e lei pensa che faranno quello che hanno promesso in campagna elettorale? no non l'hanno mai fatto spero che non facciano un c***o grazie 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 grazie